Di Rosella, 73 anni, maestra in pensione, iscritta all'Università di Pisa, si prepara a fare l'Erasmus in Corsica. Marco Bartolini. Una studentessa al secondo anno di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, con ottimi voti, che da gennaio sarà per sei mesi in Erasmus, in Corsica. La straordinarietà della notizia è l'età della studentessa Rosella Morbidelli, 73 anni pieni di vitalità, che dopo una vita di insegnamento l'ha portata per la seconda volta ad indossare i panni dell'universitaria. L'idea di iscrivermi all'università è stata per evitare di andare in depressione per l'avorto di mio marito, quindi per metabolizzare il lutto per la sua morte ho pensato di fare un qualcosa che fosse esclusivamente per me, non avevo voglia di impegnarmi in qualcosa di sociale, non ero pronta, e quindi a me studiare è sempre piaciuto e mi sono iscritto all'università. La media? La media io non so, la media, io ho un 25 a diritto privato e tutti gli altri sono 30-30 lode, sì, è una buona media. Adesso da gennaio Erasmus in Corsica. A corte, a corte sì, perché ho pensato di dare un po' una svolta, nel senso che comunque adesso andare da qui a Pisa, da qui a Sazan a Pisa, università e ritorno, era una cosa un po' di routine, è diventata una cosa di routine, ho detto vabbè facciamo qualcosa di diverso, ho fatto domanda, non pensavo neppure di essere accolta, però invece in realtà su oltre 50 sono arrivata a 10, ma oltre a voler fare un qualcosa di diverso, l'ho fatto anche per dimostrare ai ragazzi che ad ogni età è possibile fare esperienze nuove e che la conoscenza nel mondo, come adesso anche ci sarà un mondo sempre legato alla tecnologia, però la conoscenza è quella che ti allarga la mente e servirà sempre, secondo me è la base della vita, la conoscenza. A Parigi si è conclusa la settimana dell'alta morte.